Buongiorno a tutti e buon lunedì! Oggi vi vorrei parlare di un progetto in cui sono inseriti il mio libro Io sono Mare e anche il recentissimo Susi Corre di Silvia Rocchi intervistato per Il Quotidiano del Sud intervista che è uscita oggi sia sul Quotidiano del Sud che potete trovare in tutte le edicole sia, se non la trovate, sul mio blog e vi metto il link qui in descrizione il mio libro Io sono Mare e Si corre sono inseriti entrambi in un progetto di Canicola Edizioni che si chiama Dalla parte delle bambine che prende spunto dal titolo di questo saggio questo saggio degli anni 70 che parla dei condizionamenti sociali sui bambini e sulle bambine che portano agli stereotipi di genere verso sia i bambini sia le bambine e questo saggio io l'ho letto mi sa dieci anni fa sempre a Bologna, lo trovai in una bancarella e lo comprai perché mi incuriosiva era molto prima che io capissi di essere femminista molto prima della neonata ondata femminista che ha portato adesso a molti altri libri e ha portato anche al successo di questo libro qui in cui ci sono delle storie di donne vere raccontate come se fossero delle fiabbe della buonanotte appunto storie della buonanotte per bambine ribelli però ancora prima ancora prima di tutto di questo appunto interesse degli ultimi anni c'è stato questo libro qui che è un saggio di Elena Giannini Belotti in cui si parlava appunto di come ci si comportasse diversamente e si educasse diversamente si educassero diversamente gli uomini, i bambini e le bambine e soprattutto quanto le bambine ci andavano a rimettere vi leggo un piccolo passo che io trovo molto significativo questo libro è tutto sottolineato ho gli appunti però farei un video troppo lungo però è un breve passo che sintetizza quello che il femminismo di oggi dice e va predicando è la parte su cui tutti i detrattori del femminismo si soffermano di meno cioè tutti quanti sono concentrati sul dare addosso alle femministe ah ma voi odiate gli uomini fate questo, fate quell'altro assolutamente falso il femminismo vorrebbe un attimo sensibilizzare anche dalla parte degli uomini sensibilizzare non solo le donne al proprio sé alla propria autoconoscenza alla propria autoaffermazione ma soprattutto dire agli uomini non vi dovete comportare solo di merda per farvi valere come uomini e questo passo di questo libro pagina 61 però di questa edizione è stato pubblicato anche da Feltrinelli vi metto l'altra copertina qui e lo trovate secondo me in tutte le librerie con questa copertina vi leggo un passo non è alle bambine che vanno sottratte le bambole ma dovrebbero al contrario essere offerte anche ai bambini nello stesso tempo i padri dovrebbero occuparsi molto di più e da vicino e fin dai primi giorni dei loro figliolini dambo i sessi per dare a questi la visione reale e per niente scandalosa di una effettiva intercambiabilità dei ruoli padre e madre e offrire loro un modello di tenerezza maschile infatti a pro di questo in Italia c'è soltanto il congedo di maternità e la Fornero voleva istituire anni fa anche il congedo di paternità che in Italia non esiste non è disciplinando e riducendo l'affettività femminile così come si è sempre ridotta e mutilata quella maschile impedendole di esprimersi liberamente un uomo non si commuove non si intenerisce non piange non si dispera che si può sperare di arricchire gli individui non è spingendo le bambine alla competizione e all'imitazione del maschio che si offrirà loro qualcosa in più ma rispettando e favorendo le scelte di ognuno indipendentemente dal suo sesso e offrendo ai bambini modelli più ricchi più espressi più liberi dagli stereotipi imperanti potranno così realizzarsi in maniera più completa senza essere costretti a sacrificare parti di se stessi valide e preziose la capacità di imitazione è massima nei primi anni di vita e decresce progressivamente con l'età ma mentre l'imitazione riproduce dopo averlo osservato un atteggiamento un comportamento e lo ripete fino al raggiungimento di una perfezione imitativa l'identificazione è di natura più profonda è un processo psicologico con cui un soggetto assimila un aspetto una proprietà un attributo di un'altra persona e si trasforma totalmente o parzialmente sul modello di quest'ultima la personalità si costituisce e si differenzia attraverso una serie di identificazioni attraverso questo processo fortemente orientato emotivamente il bambino fa suoi interiorizza e ripete i modelli fondamentali trasmessi come validi dalla sua cultura Freud sostiene che l'identificazione è quasi l'unico principio di apprendimento di cui abbiamo bisogno per spiegare lo sviluppo della personalità l'identificazione opera con metodi sottili identificarsi in un altro significa sentirsi l'altro essere lui mentre in un primo tempo maschi e femmine si identificavano con la madre successivamente il maschio si identificherà con il padre i modelli paterni o materni sono così differenziati tra loro che identificarsi in uno dei due porta fatalmente alla differenziazione se la divisione dei ruoli non fosse così netta tra i due sessi se la personalità dei genitori non fosse così opposta l'identificazione incrociata del maschio con la madre e della femmina con il padre che per affinità di temperamento per il migliore rapporto affettivo instauratosi o per l'assenza di uno dei due vengono scelti istintivamente dal bambino come degni e preferibili non porterebbe conseguenze così drammatiche se uomo e donna si somigliassero maggiormente e se il valore sociale attribuito al sesso femminile fosse pari a quello attribuito al sesso maschile l'identificazione del maschio con la madre non sarebbe considerata degradante né sarebbe considerata anomala l'identificazione della bambina con il padre si dà il caso infatti che nascano bambine con un temperamento assai più combattivo e maschile quanto mi ci ritrovo in questa frase di quello di molti maschi e viceversa nascano maschi con un temperamento più dolce e sensibile di quello di molte femmine e se non venissero proposti modelli parentali così opposti nei quali identificarsi e spesso così dissimili dal temperamento originario del bambino tante qualità individuali non andrebbero rimediabilmente perdute perché giudicate inaccettabili in un individuo di quel sesso questo è l'ultimo paragrafino come asserrisce Margaret Mead non accadrebbe allora che un'abitudine un'attitudine un vivido immaginare un pensare preciso vadano ignorati o perduti per il solo fatto che il bambino che li possedeva apparteneva a un sesso anziché a un altro non si assisterebbe al continuo modellamento del bambino nell'uno o nell'altro tipo di comportamento ma molti sarebbero i modelli in un mondo ormai deciso a concedere a ogni individuo di seguire la via più congeniale alle sue doti questo libro qui negli anni 70 passò praticamente in sordina cioè non c'era internet non c'erano i meme non c'era l'essere virali e il diventare virali nei social non c'erano i salotti televisivi insomma era tutto un po' meno cioè questo libro ovviamente passò per il femminismo della prima ora degli anni 70 la cosa bella è che adesso siamo nel duemila quasi e venti e queste cose non passano ancora di moda e quindi ogni generazione che nasce è sempre buono ribadire e procurare alle nuove generazioni modelli un pochino differenti dai modelli che hanno avuto le generazioni precedenti le generazioni che ho avuto io la generazione di mia madre la generazione di mio padre andando sempre più indietro i modelli sono quello che sono diciamo ci sono dei modelli buoni dei modelli che vanno ripresi magari riaggiornati e dei modelli che è bene lasciarsi dietro però la cosa bella di questi anni è che ci sono molti più fumetti molti più molta più possibilità di identificarsi in altri modelli molto più positivi e sia per bambini e sia per bambine soprattutto tutti i libri che sono nati dopo questo qui che è fatto scalpore benvengano benvengano anche le copie tutto benvenga che ci siano su altre storie anche se ci sono dei libri che copiano questo format non vedo il motivo per cui fare il libro sui cento uomini coraggiosi e straordinari quando in realtà sono uomini che già si studiano nei libri di storia questo libro qui e altri libri che parlano di donne che hanno fatto cose straordinarie hanno la peculiarità di essere libri che parlano delle storie di queste donne che non sono nominate in nessun libro di storia o che comunque non si studiano a scuola quindi la peculiarità di questi libri e di conseguenza la loro importanza vitale in un mercato editoriale del libro per ragazzi è proprio questa perché sono modelli o comunque donne in cui ci si può riconoscere che non si trovano spesso nei libri scolastici finché la finché l'editoria scolastica non si accorge e riesce a inserire anche poetesse scrittrici e quant'altro nei programmi scolastici ci sarà sempre bisogno di questi libri e la loro controparte maschile risulta inutile perché se inserisci in un libro dei cento uomini coraggiosi Cesare Pinocchio Garibaldi cioè tutte queste figure maschili hanno fatto la storia cioè sono ricordati gli uomini per la storia non c'è bisogno di inserire anzi fanno un processo opposto cioè contribuiscono a dire al bambino no ti devi identificare in personaggi forti muscolari che hanno fatto solo questo che non hanno mostrato un minimo di sensibilità e così si fa peggio il mio piccolo appunto secondo me quindi è per questo che vediamo la nascita anche di questi libri io ultimamente ho preso questi due libri che ho iniziato a leggere questo ma sono molto contenta di di questa collana di Perborea che fa sempre libri fighissimi e poi ancora prima che io prendessi coscienza di tutto questo mondo dell'identificazione o comunque avendolo letto prima questo libro qui era dentro di me questa esigenza ho realizzato il mio primo libro nel 2016 quindi avendo fresca la lettura del saggio di Giannini Belotti secondo me inconsciamente mi sono detta la mia infanzia visto che io ero una bambina di quelle che ha descritto prima nel passaggio che vi ho letto che era un po' una bambina che non stava prettamente al proprio posto mi son detta beh io racconto la mia infanzia e solo dopo ho avuto la consapevolezza che questo mio raccontare l'infanzia questa mia infanzia potesse essere un modello in cui altre bambine si potevano identificare e e poi col tempo ho capito che questa cosa è importante e infatti ora sto facendo questo video per farvelo capire anche a voi non posso far altro che invitarvi in libreria a prendere il recente su si corre andate a leggere l'intervista che ho fatto all'autrice sul mio blog e sul quotidiano del sud e il mio io sono mare questo è più per adolescenti mentre questo è da bambini e bambine dai 5 anni in poi io ci tenevo a fare questo video in cui vi spiegavo e vi leggevo dei passi del saggio e del titolo della collana in cui sono contenuti questi due fumetti che è dalla parte delle bambine perché anche lì ho ricevuto cioè non io personalmente ma sui social sulla casa editrice eccetera dei commenti ah dalla parte delle bambine e perché non dire dalla parte delle personcine e no non è la stessa cosa visto che sono le bambine a rimetterci visto i condizionamenti sociali e gli stereotipi di genere soprattutto cioè la pressione sociale è più incanalata verso il femminile che il maschile ma se si lotta per l'emancipazione e la liberazione degli stereotipi del femminile ugualmente si otterrà degli effetti benefici anche per il maschile quindi chi mi dice eh ma il femminismo voi siete contro gli uomini no se si lotta e si contribuisce e si abbraccia si abbracciano le proteste femministe almeno del femminismo intersezionale di oggi vuol dire che siete degli uomini migliori anche voi uomini migliori rispetto a quelli che ci vogliono far passare e ci vogliono far vedere sempre muscolari che prendono delle scelte che però possono sembrare dei veri stronzi quindi se volete sembrare meno stronzi abbracciate il femminismo anche voi e non date retta a tutte quelle voci e a tutti quegli quelle opinioni che tendono a degradare qualsiasi movimento che sia portato avanti dalle donne perché vuol dire che se accettate un'opinione che degrada una donna soprattutto se ha 16 anni anche va bene eh si abbracciate delle tesi che portano a denigrare qualsiasi tipo di donna pensate che quella donna potrebbe essere vostra madre vostra sorella o una vostra amica voi tendereste a denigrare qualsiasi cosa facesse una donna a cui volete bene non credo e non credo che queste donne lo facciano per chissà quali complottismi o quali o quale senso è manipolata perché se una donna è forte e porta avanti una tesi deve essere per forza manipolata altro stereotipo quindi spero di avervi un po' aperto la mente in questo video e soprattutto perché serve ribadire dei concetti che non sono per niente ovvi e che vengono minati con le bombe da ogni parte quindi anche io nel mio piccolo cerco di trasmettere questi valori positivi che fanno e farebbero bene a tutti farebbe bene abbracciarli a tutti maschi e femmine e che io attraverso i miei corsi anche perché il progetto dalla parte delle bambine di Canicola Edizioni tende al superamento degli stereotipi di genere e a un'educazione all'affettività nelle scuole lo porta avanti questo progetto nelle scuole con dei laboratori degli incontri aperti insomma con tante piccole attività di cui per fortuna c'è sempre bisogno e ci si offre gli spazi per farle quindi vuol dire che ce n'è bisogno se si offrono biblioteche librerie scuole ad accoglierci e ospitarci significa che di queste cose hanno fame proprio gli educatori le educatrici e chi si occupa della formazione dei bambini per cui non denigrate ciò che non conoscete ma leggete 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 per oggi è tutto al prossimo lunedì grazie a tutti